Ma questo bimbo? Ti ho già visto? Edmund! Il protagonista del film! Ehi! Ma cosa stai facendo? Non farlo, ti rovinerai la vita così! Fermati! Ascoltami! Tutte le giovani menti devono conoscere quel che è successo nei terribili anni del dopoguerra. Tutto le giovani menti devono conoscere quel che è successo nei terribili anni del dopoguerra. Tutto le giovani menti devono conoscere quel che è successo nei terribili anni del dopoguerra. Tutto le giovani menti devono conoscere quel che è successo nei terribili anni del dopoguerra.